salve a tutti benvenuti in questo nuovo video ringraziamo tutti coloro che stanno interagendo con il canale ringraziamo sebastiano cascone ciro caruso vincenzo dag ovviamente sto lasciatemi tutti i commenti perché rispondo ad ognuno di voi vincenzo dag floriana farano che è sempre tanto presente e tanto gentile e ancora ecco risposto in questo istante a te a floriana tiziana putera laura la scuola siamo noi vito cesaro cesaro paolo lommi che ha scritto commento meraviglioso chiara bavetta matteo carelli eva kramer alessandro loss antonella larocca ancora floriana farano lina bedoia la scuola siamo noi questi sono tutti i commenti arrivati nelle ultime 24 ore paola bianchi zuara mistrorigo matteo frontini alessandro loss non leggo tutti i vostri commenti tanto se siete interessati potete leggerli voi ma leggo i nomi per ringraziare tutti coloro insomma che stanno interagendo con il canale che tengono che contribuiscono a tenere il canale più vivo che mai allora oggi a fronte insomma delle richieste che mi sono pervenute voglio dare un una migliore voglio dare migliori precisazioni relativamente all'uda scrivo un po più piccolino per fare entrare più elementi cerco di scrivere lungo sempre questa slide così avremo sempre la stessa schermata attiva ovviamente voi sapete tutti che dell'acronimo di unità didattica di apprendimento da molti chiamati anche unità di apprendimento allora ne approfitto pure perché ci sono stati tanti commenti interessanti che te il più delle volte voi siete i per precisi e quindi i vostri commenti in realtà sono complementari e sono utili pure a coloro che studiano allora facciamoci la prima domanda cos'è cerchiamo di rispondere alla questa domanda allora ovviamente può essere un percorso formativo in anche interdisciplinare quindi sicuramente un percorso formativo meglio se interdisciplinare il protagonista chi è ovviamente lo studente come protagonista ossia lo studente deve essere al centro dell'azione formativa e questo significa tantissimo perché ovviamente poi lo studente nella classe noi non abbiamo uno studente abbiamo tanti studenti studenti con bisogni educativi speciali studenti e qui ci sono tante sottocategorie studenti dsa con disturbi specifici dell'apprendimento di a a a disturbi a specifici dell'apprendimento articolo 3,3 quindi con insegnante di sostegno ovviamente ci sono tante sottocategorie e poi ci sono anche altri studenti ovviamente i bisogni educativi speciali possono essere anche temporanei non non è detto che siano per sempre e possono essere anche dovuti a difficoltà di linguaggio per alunni stranieri difficoltà socio economiche e tante cioè in realtà BES prevede veramente una classe di studenti molto ampia e se siete interessati vi rimando al video sui bisogni educativi speciali ovviamente è importante in unità didattica di apprendimento lo sviluppo in fasi temporali quindi vi è una tematica è una tematica sviluppata in fasi cos'altro è un'unità didattica di apprendimento è un qualcosa finalizzata all'acquisizione di conoscenze e abilità è mirata a sviluppare conoscenze e abilità promuove le competenze culturali e sociali deve promuovere anche la capacità di risolvere i problemi quindi io qui scrivo brevemente il problem solving inteso come risolvere i problemi legati ad una situazione chiamato anche da molti compito di realtà vi è sicuramente una parte dedicata alla e anche lo sviluppo di un elaborato finale a cui ovviamente può essere data anche fornita anche una presentazione che poi diventa una presentazione pubblica ovviamente l'unità didattica di apprendimento promuove e valuta le competenze e quindi subito creiamo anche noi delle interconnessioni all'interno di quanto detto e diciamo che la competenza è la capacità e l'attitudine ad usare conoscenze abilità capacità personali intelligenza emotiva su questo abbiamo fatto anche una bellissima diretta live la capacità di usare metodologie in situazioni lavorative e tali competenze devono avere degli attributi degli aggettivi e devono tutto tutto quello che vi ho elencato deve essere capace da parte dello studente lo studente deve essere capace di presentare tutte queste caratteristiche in situazione di responsabilità e autonomia tutto ciò grazie alla consapevolezza tornando alle abilità scusate per come l'ho scritto cerchiamo di collegare tutto e se possono essere sviluppate all'interno dell'Uda ovviamente lungo le fasi di svolgimento dell'Uda stessa dando la possibilità di affrontare il compito di realtà però in realtà queste abilità potrebbero essere già state sviluppate in precedenza e vengono ecco qui per cui io vi parlavo di prerequisiti e giustamente uno di voi ha fatto un commento molto molto bello in realtà se andate se si va bene a leggere tutto il contesto le abilità possono essere state già precedentemente sviluppate e quindi vengono riprese nell'Uda ovviamente mediante il compito di realtà e ancora le abilità vengono comunque promosse in maniera contestuale allo svolgimento stesso del compito di realtà e quindi dato che ve l'ho nominato tante volte questo compito di realtà mobilita le conoscenze e le abilità in situazioni nuove problematiche problematiche complesse inedite con più soluzioni quindi aperte a più soluzioni ritornando sempre all'Uda e abbiamo cercato di dare più definizioni potrebbe essere definita anche attraverso gli strumenti con i quali l'Uda viene messa in pratica essa quindi utilizza metodologie e strategie didattiche che ovviamente devono essere motivazionali perché al centro dell'attività didattica ci sono i nostri studenti e devono essere motivazionali scriviamo così motivazionali e coinvolgenti al fine ovviamente di avere una partecipazione attiva degli stessi degli studenti stessi ovviamente promuove sempre l'Uda in virtù di tutto quanto abbiamo di tutto quello che abbiamo detto promuove pensieri complessi crea collegamenti collegamenti interdisciplinari e volta alla soluzione di problemi richiede molte volte una azione condivisa dei docenti un'azione una progettazione e quindi possiamo dire quasi che va nella direzione di una visione olistica del progetto formativo formativo quello che viene detto non è più all'interno di un singolo argomento si parla si parla di quell'argomento e finisce lì ma ovviamente si affronta l'argomento da tanti punti di vista sotto molti più aspetti correlati alle diverse discipline e quindi si ha una visione molto più ampia fino ad arrivare a dire che porta alla visione olistica del progetto formativo ovviamente non sempre si può ci sono sarebbe a mio avviso errato dire che l'UDA presenta solo aspetti positivi anzi il fatto che richiede il convolgimento di più docenti di diverse classi di concorso ovviamente questo può essere è un'arma a doppio taglio perché non è detto che ci sia una collaborazione un'interdipendenza positiva può a volte risultare anche dispersivo difficoltoso andare a affrontare così tanti argomenti cioè un argomento sotto così tanti punti di vista e quindi ovviamente va sempre rielaborato il tutto per cercare di dare una visione chiara perché non è non è facile per tutti ovviamente ragionare su più livelli e poi avere un'unica visione il nostro cervello ovviamente fatica a fare processi di questo tipo ed è ovviamente quindi pure più difficoltosa dal punto di vista della progettazione da parte del docente un conto è che io parlo ad esempio delle equazioni un conto che io voglio correrare le equazioni con le equazioni in fisica con le equazioni economiche e quindi alle equazioni che possono avere in essi correlati alla storia la storia dell'essere umano la storia quindi del pensiero anche dell'essere umano quindi alla filosofia e quindi poi alla letteratura e tutto il resto ovviamente diventa estremamente più complesso riuscire ad orchestrare tutto ciò le metodologie didattiche abbiamo detto che utilizza metodologie didattiche vediamo se troviamo un altro colore arancione così tutto quello che diciamo oggi è connesso cerchiamo anche noi di fare interconnessioni tra tutti i termini che utilizziamo tali metodologie possono essere suddivise in base a diverse peculiarità in base a diverse caratteristiche una di queste può essere che possiamo classificarle in base alle metodologie di tipo induttivo ossia l'allievo arriva a concettualizzare e ad astrarre a partire dall'osservazione e dall'esperienza empirica si parte dall'esperienza empirica può essere di tipo laboratoriale se poi mi dimentico qualcosa scrivetelo nei commenti il sapere in questo caso viene praticato e tradotto in un saper fare la conoscenza e il sapere diventano saper fare e qui vi dico una parolina molto usata learning by doing può essere ancora di tipo cooperativo o cooperative usiamo molte parole di origine anglosassene perché in realtà molti studi scientifici su cui si basano basati sulle metodologie didattiche ovviamente derivano poi da studi americani ovviamente le metodologie cooperative chiedono richiedono la collaborazione cioè diventa fondamentale il gruppo si collabora in gruppo e diventano occasioni per creare una zona di sviluppo prossimale in cui ogni alunno accresce le proprie competenze ad esempio nel cooperative learning ho davvero poco spazio potrei nell'unità didattica di apprendimento se leviamo l'apprendimento rimane unità didattica ed è a questo punto interessante fare un confronto essa contrariamente all'unità didattica di apprendimento che è concentrata sullo studente è centrata e focalizzata sugli obiettivi disciplinari mirata agli obiettivi ho pochissimo spazio disciplinari e ancora al centro dell'unità didattica vi è una centralità dell'azione del docente io quindi scrivo centralità del docente mentre qui parlavamo nella nell'attività laboratoriali cooperative eccetera eccetera parlavamo essenzialmente del gruppo qui vi è più un'attività individuale dello studente ovviamente anche qui vi è un processo di verifica di conoscenze e abilità però nell'unità di apprendimento vi è invece una verifica e una valutazione delle competenze delle abilità e delle conoscenze attraverso l'analisi del processo del prodotto di riflessioni di ricostruzione anche da parte dell'allievo che deve saper metabolizzare ricostruire rielaborare tutto quello che apprende qui invece c'è una verifica di conoscenze e abilità e infatti si propone soprattutto di conseguire quest'ultime di conseguire conoscenze e abilità e ancora mi sa che dopo questo smettiamo perché è veramente finito lo spazio non mi voglio dilungare troppo l'Uta è divisa in realtà in fasi uno vi è sempre e comunque una parte introduttiva che è un'introduzione nella quale vengono presentate le informazioni generali dell'unità didattica di apprendimento gli assi gli insegnamenti che vengono coinvolti i risultati dell'apprendimento le competenze le abilità le conoscenze attese e ripeto anche i prerequisiti che sono indispensabili per affrontare l'unità di apprendimento perché se i prerequisiti sono fondamentali non possiamo pensare di non considerarli ovviamente se invece questi prerequisiti non sono indispensabili ecco che voi avete la possibilità di non trattarli siccome vi era un commento proprio specifico riguardo ai prerequisiti adesso io ho potuto meglio rispondere a quello a quanto veniva affermato ovviamente l'introduzione ha anche un valore formativo e ovviamente va progettata anche la gestione dei tempi tutto quello che già vi ho detto in altri video poi vi è la fase centrale nella quale vi è proprio viene dettagliato il piano di lavoro dell'unità didattica di apprendimento il percorso viene articolato in fasi progressive o anche in fasi parallele quindi o seriali o parallele vengono esplicitati i contenuti da affrontare le attività le strategie didattiche da utilizzare i tipi di prova i criteri di valutazione viene valutata anche la durata può essere anche quindi all'interno di tutto ciò cioè il punto 3 riguarda tutti gli altri punti quindi riguarda questo e riguarda pure quello che viene dopo pure il punto 4 che è la pianificazione temporale anche tramite il diagramma di Gantt e non ultimo non meno importante tra l'altro me l'avete richiesto poi eventualmente si può pensare di fare un ulteriore video all'interno dell'UDA ovviamente vi è una parte relativa alla valutazione e soprattutto alle griglie di valutazione che servono all'osservazione sistematica delle competenze griglie di valutazione bene allora io penso di aver detto abbastanza in questa diretta vi chiedo scusa se ci sono state delle pause ma devo soppesare molto bene ogni singola parola che dico perché poi non posso tornare indietro e quindi desidero fornirvi un prodotto di qualità ringrazio ancora tutti quelli che attivamente partecipano a questa a questa in questa a questa serie di video live nelle quali io comunico con voi mi interfaccio con voi vi rispondo sempre insomma cerco di mettere la mia conoscenza e la mia esperienza e il mio bagaglio culturale cerco di condividerlo anche perché abbiamo sempre parlato di quanto sia importante l'azione condivisa degli insegnanti allora noi in questo senso la quest'azione condivisa la dobbiamo dimostrare sempre e comunque anche per la preparazione del concorso anche nelle fasi in cui io cioè non posso dirvi l'azione deve essere condivisa dobbiamo pensare di stare tutti sulla stessa barca e poi diciamo che me ne frego di tutte le difficoltà che hanno i miei colleghi pericari non è possibile ovviamente è fondamentale vi ho fatto la metafora della barca quando quando si ha un consiglio di classe questo consiglio deve avere una direzione non è possibile pensare che un insegnante va da una parte un insegnante dalla parte opposta e poi si creano si crea caos disordine si crea cioè dobbiamo essere così bravi da orchestrare da gestire il tutto anche a livello più alto non solo a livello della classe ma a livello globale a livello proprio di quello cioè ci dobbiamo immedesimare nei nostri studenti e dire va bene ma il mio contributo insieme al contributo di tutti gli altri è in sinergia si sta creando una sinergia positiva noi dobbiamo essere favorevoli alle comunicazioni tra docenti alla collaborazione tra docenti è come un papà e una mamma che vanno d'accordo il figlio sta bene il figlio cresce in maniera sana se il papà e la mamma litigano in continuazione il figlio soffre e ovviamente diventa molto più difficile l'attività educativa ovviamente qual è il limite non si può andare d'accordo con tutti allora anche lì bisogna avere un'intelligenza un'intelligenza anche professionale bene io non vado d'accordo con te da un punto di vista umano però per il bene dei ragazzi per professionalità cerco di mettere da parte questo e cerchiamo di comunque raggiungere degli obiettivi condivisi per il bene per l'amore che abbiamo nei confronti della classe per l'amore e la passione che contraddistingue la nostra professione che è estremamente richiede un atto di responsabilità enorme perché investire sui giovani e fare bene il lavoro con i nostri studenti significa creare il futuro creare cioè creare le basi gettare le basi per un futuro positivo per un futuro di successo per i nostri studenti pensate quanto è importante in quest'ottica il nostro lavoro che è il lavoro di enorme responsabilità ed ecco perché secondo me anche fare delle digressioni dei pensieri relativamente a questi aspetti non è secondario non c'è a mio avviso cioè noi non dobbiamo pensare bene studiamo in maniera tabellare solo quello che pensiamo che ci venga richiesto e non dobbiamo avere una visione d'insieme così falliremo fallirete fallirà chi la pensa così perché è impossibile poi riuscire ad affrontare serenamente positivamente il concorso se prendiamo spezzettate ogni singola in maniera spezzettata e frammentata ogni singola nozione e poi non ci capiamo più niente ci sono colleghi che mi dicono vabbè ma io non ce la faccio più c'è chi dice una cosa c'è chi ne dice un'altra allora la realtà è così è variegata complessa a volte contorta non sempre segue una linea logica ed è ovvio che se ci si immette in questo mondo all'inizio può essere dispersivo però poi piano piano riusciamo a riprendere l'equilibrio e l'orientamento bene io intendo nuovamente rinnovarvi un grande affettuoso saluto un saluto vero di partecipativo cioè partecipativo che promuova insomma il vostro studio efficace la la vostra motivazione la vostra capacità di superare anche questo esame questo concorso e questa difficoltà ne avremo tantissime nella vita però insomma è proprio le difficoltà eh le difficoltà sono qualcosa un minimo comune multiplo qualcosa che ci accomuna tutti ed è bello insomma pensare che spesso ognuno di noi poi trova anche la soluzione a queste difficoltà con questo io vi rinnovo un caro saluto e al prossimo video ognuno di noi